Modifica della legge Merlin si riparte. A 56 anni dalla chiusura delle case di tolleranza si riapre il dibattito, per la verità mai placato, su una diversa regolamentazione della prostituzione. Un gruppo di senatori ci riprova con un disegno di legge trasversale tra gli schieramenti che potrebbe portare, dopo decenni di tentativi, ad una revisione della Merlin. L'idea di fondo, che si parli di case d'appuntamenti autogestite o di zone rosse, è quella di far sì che le prostitute possano esercitare liberamente la professione. Ed il dibattito torna ancora una volta ad infiammarsi e a dividere tra favorevoli e contrari in alcune zone della marca, dove più forte è l'impatto della prostituzione di strada sulla vita dei cittadini. La questione è particolarmente sentita, come a Preganziola, dove il sindaco punta sulla distinzione tra prostituzione e sfruttamento. I dati degli operatori di strada ci dicono molto chiaramente che la stragrande maggioranza delle nostre ragazze non è un soggetto che è lì per la volontà di prostituirsi, ma per l'obbligo, essendo esse inserite coinvolte in una tratta. Da questo dunque bisogna partire, secondo il sindaco di Preganziola, per regolamentare il fenomeno e sottrarre le ragazze al racket. Una riflessione profonda, chiede anche la senatrice Laura Puppato. Se dobbiamo considerare invece che tutto possa essere venduto, compreso il corpo umano, e che quindi noi siamo nient'altro che merce, soprattutto se donne, su questo qualche perplessità ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo ben contemperare le questioni. Favorevole alle case chiuse, ma non ai quartieri a luci rosse, l'europarlamentare Remo Sernagiotto. Io credo che si debba tornare a una casa. Il modello austriaco, quello della carenzia, è un modello serio, dove ci sono i medici, dove vengono visitate, dove c'è la certezza che nessuno possa sfruttare quelle donne.